Per cui invito tutti voi, in quanto individui, associazioni, realtà sociale, di avviare una raccolta fondi per aiutare i palestinesi. Sicuramente questo è il minimo che possiamo fare. Noi come associazioni che siamo sulle prime pagine come finanziatore dei terroristi ci fa onore di esserlo, perché se sostenere il popolo palestinese è considerato un atto di terrorismo. Siamo tutti terroristi! La nostra richiesta dalla piazza è di cessare il fuoco immediato. Questo va portato avanti attraverso tutti i mezzi, i canali, social o no. Se non facciamo pressione sui nostri politici, se ne fregano. Noi come piazza possiamo farcela. Facciamo il nostro dovere sempre per una, palestina libera!